Musica E benvenuti a tutti e bentornati qui sul mio canale Sono Alecavonata7 e quest'oggi siamo qui su un nuovo episodio sulla Road to Division 1 Quest'oggi ci mancano una sola vittoria per arrivare in divisione 7 E poi vedremo se riusciamo a vincere questa di iniziare la divisione 7 al migliore dei modi Ci vediamo appena inizia la prima partita E eccoci qua Rezzoni nella prima partita di quest'oggi Lui parte subito così ragazzoni Manco mandato il tempo di prendere il joystick in mano E parte subito Ma noi non abbiamo paura Perché noi con la nostra epica squadra signori Parte proprio l'attacca Attenzione palla in avanti Verso Sharawi E Sharawi E Sharawi la palla lì Ti guinno Appoggio dietro Mamma mia Rezzoni come siamo partiti Come siamo partiti Non c'è Grez No 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 fanculo no No Non è possibile Ce voglio credere gà Inveritato proprio Un go Un tiro hanno fatto Un tiro Non c'è Grezio Ma ha levato la fine Oh Bevo per S Mamma vai per i guardi I guardi per Iguain Iguain carica il tiro E' pepita E' pepita E' pepita Mamma mia signori E' pepita Iguain Ha buttato giù la porta Musa Occhio alla ripartenza Non c'è Grezio No regà È clamoroso Clamoroso regà C'ha due tiri in porta Ha fatto due tiri in porta Ha fatto due tiri in porta A due gol Regà è clamoroso Clamoroso Veramente regà È clamoroso Due tiri in porta A due gol E finisce qui il primo tempo Regà Finito qui il primo tempo Una partita veramente brutta Non Ci sono state veramente poche azioni E di quelle poche azioni Regà questo ha fatto due tiri Du gol Quindi Vabbè dai Vabbè ma sì dai Ci dobbiamo al secondo tempo Che penso che inizierà subito Team AS Turbo No tu sei un team Fiodenamin E' qui qua il secondo tempo Via ragazzi Allora Qui adesso dobbiamo veramente dare il massimo Il due c Ecco Abbiamo iniziato bene Sì ho detto dare il massimo Ma La palla è adumata ai giocatori nostri Per favore Regà ragazzi dai Bravo st'intervento Vedete regà E niente regà Cioè Vabbè Passano la palla Dove gli vanno A loro Bellissimo Suosaggio Vai Esha Vai Esha 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 li ripunta a tutti Esha Esha li ripunta a tutti Pure tu madre Devi ripunta a Esha Va Perché 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 state facendo così Perché Vai Iguain Regà cosa ha preso Regà No regà Cosa ha preso Cosa ha preso Ragà Cosa ha preso Non lo sa manco lui Non lo ha neanche fatto Ma i card di test Stalla riparata Niente Vabbè Qui non c'erano Un portiere Regà Qui c'erano Già di Cristo Per portiere loro Va bene Va bene Ho già capito Come sta andando Questa partita Tira ninja Regà È impossibile Regà Diventa impossibile Però così Segnà Cioè sto dominando Dall'inizio della partita Regà Sto dominando No No Non ce lo credo Mamma no Vabbè regà Clamoroso Clamoroso proprio Regà Clamoroso Clamorosa proprio Questa partita è clamorosa Guardate qui cosa ha fatto Cioè qui per carità Ha fatto Bellissima La fa la bicicletta Ok regà Ma pure questo Cioè su rinvi Mamma regà Tutti su rinpalli Clamorosa Questa partita Icardi 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 3-2 minuti 3-2 minuti 3-2 minuti E dai cosi Manca ancora 10 minuti No Icardi L'ho rimuntata L'ho rimuntata L'ho rimuntata L'ho rimuntata L'ho rimuntata in 2 minuti Il coordine è in Golan Lo so regà Adesso questa Non so da merda Però regà Scusatemi Maudo Vabbè forza Ecco la battuta E va bene regà Va bene Va bene Che suoni Va bene dai Va bene Va bene FIFA Va bene Sì Sì FIFA Sì Va bene FIFA Va bene FIFA Questa partita è completamente decisa da FIFA Regà Complemento decisa da FIFA Guardate qui Va benissimo Il mio portiere Fermo Lui fa 4 tiri 4 gol E va bene regà Finisce qui E finisce qui la partita Regà E che dive 4-3 Tantissimi gol Partita Immeritata Per il nostro avversario Abbiamo dominato Dall'inizio Alla fine Della partita Ecco qui qua ragazzi 13 tiri 9 in porta 48 Contrasti 15 Regà Lui ha fatto 3 tiri 3 gol Noi 13 tiri 3 gol Niente Rassoli Va bene così Dai Ci proveremo Alla prossima partita Ci vediamo appena inizia la seconda partita Eccoci qua Rassoli Nella seconda partita Di quest'oggi La prima sappiamo tutti Come è andata Ma tralasciamo la prima partita Che è stata decisiva da FIFA Questo già mette pauta Comunque buono così almeno Vi spiego anche la sua formazione Lui ha una bellissima Premier League Molto potente Con Hummel Sotamendi Sagnat E Royce Quindi Quindi Veramente una bella squadra La sua Vediamo come va Questa partita Noi ce la giochiamo Al massimo Dei nostri livelli Poi se FIFA Decide fa come prima E decide fa Come vuole lui Poco possiamo fa In golando Per i guardi I guardi Ancora indietro Verso Salah Salah senta il tiro Salah fuori Mamma mia Pericolosissimi Siamo subito Subito pericolosi Vai Salah Ci sono vetri a disposizione Bello sta palla Per i guardi I guardi in aria Eccolo il gol Eccolo il gol Eccolo il gol Eccolo il gol Eccolo il 1-0 per noi Finisce qui il primo tempo Ragazzoli Un primo tempo Giocato e dominato Da noi Lui ha avuto Due occasioni Se non sbaglio Ma neanche Forse una Che una Su un errore mio Però niente di che Quindi finisce qui il primo tempo Per noi 1-0 per noi Stiamo veramente dominando Risultato Più che merita Questo 1-0 per noi Anzi forse Ci aspettavamo anche In qualcosa in più Tipo anche un 3-0 Che non avremmo rubato Veramente nulla Comunque ci vediamo Al secondo tempo Ecco qui qua Il secondo rap Sta per iniziare E' iniziato ora Il Sharawi fa subito Già la prima palla Vediamo come Inizia questa Prima azione Il secondo tempo Sempre con noi All'attacco Da ingolando Vai così Il Sharawi Iguain E Iguacqui Però dovevi protegge Fallo Fallo Ragazzi Qui sbaglia tutto Sbaglia tutto Attenzione Icardi 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 L'ha percepito E la va a mettere in rete Un grandissimo Guardi Mauri Icardi Guardate qui Che tocchetto sotto Leggero Soft Io sbaglio a parte loro Sbaglio a parte loro Nengolanda va a recuperare Il ninja Nengolanda Va a recuperare Un sbaglio a parte loro Il ninja per Icardi E c'è il call 3 a 0 La va a mettere dentro 3 a 0 per noi No vabbè Fatto un tiro in porta Un tiro in porta Va bene dai Adesso comunque Siamo 3 a 1 per noi Quindi va benissimo Così regà Va benissimo Però ha fatto un tiro in porta Come sempre FIFA Fa come gli pare Mamma mia Ragazzi Stiamo mettendo Veramente sotto pressione Don Sa Si gira Don Sa La palla al centro Verso Iguain Iguain si gira Ancora la botta Ancora la parata La partileno Che sta facendo Veramente miracoli Don Sa Ancora il calcio L'angolo verso Fermanella Palla rimane lì Al centro Icardi Iguain Mamma mia Stiamo dominando Mamma mia Ci stiamo rifacendo La partita di prima Rubbata proprio Complemento da FIFA Ha sbagliato Palla per Iguain E va bene così Noi ci accontentiamo Anche di questi Goni E finisce qua Ragazzi ci portiamo a casa Questa vittoria Che ci da Forse Ci da Il titolo Non vorrei sbagliarmi Ma ci da il titolo La divisione 8 E la qualificazione In divisione 7 Andiamo a vedere Avanza Che bene Ad essere Ed è così Ragazzi Si va in divisione 7 Abbiamo vinto la divisione 8 Ora dritti In divisione 7 Che vedremo nel prossimo video Ragazzi Questo video Spero che vi sia piaciuto È diventato il festival Del goal Quindi Se questo video vi è piaciuto Spero veramente Che fosse così Se siete piaciuti Banno in su Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Passate il link Tutto in descrizione Pagio Facebook Che è San Gaming E noi ci vediamo Nei prossimi giorni Con un prossimo video E Bella raga